salve a tutti ragazzi eccoci a un nuovo video su un manga che è appena uscita una ristampa attesa dai più che è la ristampa di shaman king che viene definita final edition doveva uscire il 31 oggi è 30 in fumetteria già arrivata niente volevo farvi vedere un pochettino come era come era fatto perché ero curioso soprattutto di capire il fatto che aveva due sovracopertine non capivo il perché innanzitutto il formato è più o meno come quello standard della starmi scusatemi per la voce ma ho un'allergia tremenda infatti questo qua è il numero 19 di maio accademia potete vedere che praticamente è la stessa grandezza solo che ovviamente questo qua shaman king è dotato di sovracoperta allo stesso tempo ora c'è il simbolo nuovo della star non più quindi la scritta così star con questo simbolo con questo simbolo nuovo e quindi andiamo a vedere più nel dettaglio il prodotto questa è la fronte il lato già l'ho fatto vedere la costina poi dietro c'è il prezzo che 5 euro e 90 shaman king final edition diciamo sul è tutto più o meno sul sul verde ovviamente se togliamo la sovracoperta il manga appare così tutto bianco con questi richini sul grigio dicevano anche che tavole a colori infatti ci sono anche le le tavole a colori la carta non è niente male anzi veramente veramente un buon prodotto come rapporto qualità prezzo ci siamo è che 5 euro e 90 non non costa tanto anzi proprio per com'è la carta quelle pagine a colore è questo fatto che dicono delle due sovracoperte che adesso andiamo a guardare eccole qui qui è quella la che troviamo diciamo già in primo piano e quella è quella sotto il disegno più o meno diciamo è lo stesso penso questo qua sia stato ridisegnato in un secondo momento e questo forse sia un disegno vecchio se vedete qui il numero è un po più più in su rispetto a quello è il nome dell'autore qui è sulla in basso a destra e qui in basso a sinistra sul lato sulla costina cambia che ovviamente viene riportato anche qui il disegno nuovo e anche la grafica per quanto il fonte è lo stesso qui c'è questa fogliolina qui invece c'è una fiamma alla fine su quella diciamo principale come abbiamo visto c'è il disegno disegno che completa il disegno di copertina mentre in questa in quest'altra non c'è nulla c'è solo la diciamo il riassunto di quello che sta succedendo ed è invece di essere sul verde e sul nero quindi queste sono le due sovracoperte io credo di non aver detto un'inesattezza dicendo che questo qua è un disegno nuovo perché mi sembra molto un tratto più maturo rispetto a questo qua quindi alla fine uno può scegliere come come voler esporre il il manga a suo piacere così sono andato per per sicurezza sul sito della star e appunto le copie questo tipo di disegno sono dei disegni delle illustrazioni inediti quindi che dirvi l'edizione uscirà ogni 15 giorni in realtà in fumetteria era già presente anche un bundle con il sia il primo che il secondo numero con degli adesivi in omaggio io ho preso l'uscita normale perché sinceramente degli adesivi non me ne sarei fatto nulla e quindi ho lasciato ad altri a chi più ci tiene su queste queste cose la possibilità di poterlo prendere il secondo lo prenderò appunto fra due settimane quindi ribadisco secondo me un ottimo un ottimo prodotto come come qualità una carta veramente veramente notevole e quindi che dirvi questo è il reedizione spero di esservi stati d'aiuto ciao